Nel numero 14, Vamalos, Fuglia, il numero 32. Vamalos, Fuglia, il primo gol della partita. Far a volare, vinci. L'anticipo di Cagnette, che era lì dietro nascosto, pronto a rifare proprio questo pallone. 15-10, il massimo vantaggio fatto a registrare nel corso della partita la parte. Il Brixen va in semifinale, battendo 37-27 la Team Network Albatro di Siracusa. Grazie a tutti.